Allora, buonasera a tutti. Io, come potete sentire, dal vento a mattina, sono in Svezia e precisamente a Stockholm e ora vi darò una prova di questo fatto. Questo perché mi sto preparando per tornare in Italia. Non tornerò a breve, però chiaramente devo avere il tempo di trovarle, di trovare queste mascherine. Io sto per arrivare al centro commerciale. Allora, primo tentativo ho fallito e mi hanno detto che non hanno alcun tipo di mascherina e ha precisato che non ce l'hanno neanche per loro in realtà. Allora io ho detto ma pensate di ordinarle, vi arriveranno. E mi hanno risposto che al momento non lo sanno. Per cui adesso io farò un secondo tentativo nell'altra farmacia di questo centro commerciale. Qui vedo che il flusso è abbastanza normale. Ora volevo anche cercare i guanti in lattice se li trovo. Ora sono andata anche nella seconda farmacia e non ci sono mascherine. Nel frattempo qui piove e quindi per ora non ho mascherine. Allora sono appena arrivata a casa. In tutto ciò ho beccato una bella giubbata d'acqua, come dicono a Siena. Mi sono bagnata tutta da dove sta con i piedi e per comprare questo. Speriamo che la mia prossima uscita sia più fruttuosa. Baci baci da Stoccolma.